Buonasera 1 e 24, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con i risultati delle amministrative che hanno coinvolto 595 comuni, 13 erano capoluoghi, una capoluogo di regione Ancona, nelle Marche. Di alcuni si sanno già i risultati, al primo turno vince la destra a Latina, Treviso e Imperia, invece Brescia e Teramo restano al centro-sinistra. Brescia e Teramo restano al centro-sinistra, il centro-destra vince a Treviso, Imperia, Latina e Sondrio e questo è il bilancio del primo turno delle elezioni amministrative parziali che ha coinvolto 595 comuni, 9 regioni, 13 capoluoghi e oltre 5 milioni di elettori. Sette sono invece i capoluoghi che si avviano verso il secondo turno, solo a Siena e avanti il centro-sinistra. L'affluenza non fa registrare il crollo temuto alla vigilia, ma una flessione di meno di due punti rispetto alla tornata precedente e raggiunge quota 59,03%. Ancona, con la sindacca uscente di centro-sinistra, si avvia al ballottaggio, ma con il centro-destra in vantaggio, un risultato di svolta in una città considerata da sempre roccaforte rossa. Situazione inversa a Vicenza, dove il centro-sinistra ad un passo dal successo soffre l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, il patto tra le due forze si impone a Teramo, ma non a Pisa e a Brindisi. E nemmeno a Latina, che anzi torna al centro-destra, con un risultato clamoroso di oltre il 70% per la nuova sindaca, la prima volta per una donna. In difficoltà il terzo polo che si è presentato con alleanze variabili. Poche le reazioni dei leader nazionali al termine dello spoglio. Matteo Salvini dice, sono soddisfatto per la netta crescita della Lega, sia in termini di voti, sia di sindaci e consiglieri eletti. Per il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, si tratta di una netta vittoria del centro-destra al primo turno. Carlo Calenda, azione circa la vittoria a Brescia, si dice felicissimo per Laura Castelletti e per il risultato ottimo della nostra lista. Per il PD, Baruffi spiega che molti degli scontri diretti che si giocheranno tra due settimane sono confidenti. Ad Ancona il risultato è positivo. Elish Line parlerà domani, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. Altre elezioni, andiamo in Turchia per la prima volta dopo 20 anni al potere. Erdogan andrà al ballottaggio, non è arrivato al 50%, si è fermato poco prima. Al 45% lo sfidante a capo delle opposizioni, Kilish Daloglu. Tra due settimane si saprà se la Turchia volterà a pagina, pesa anche quel 5% preso da Hogan e si capirà a chi andranno quei voti. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio dal Consiglio elettorale di Ancara. Il ballottaggio si disputerà il 28 maggio. Nessuno dei due candidati ha superato la soglia del 50% per vincere al primo turno. Sarà lotta fino alla fine, ha annunciato il candidato dell'opposizione. Il socialdemocratico Kemal Kirish Daroglu, che ha chiuso il primo turno con quasi il 45% dei voti. Quattro punti sotto il presidente in carica Taip Erdogan, che ha ottenuto il 49,5%, stravincendo nel voto all'estero e facendo il pieno in Belgio, Olanda, Germania e Francia. Ago della bilancia l'ultranazionalista OAN, col 5% che non ha ancora dato un'indicazione di voto ai propri elettori, ma ha dichiarato di preferire partiti che vogliono escludere la politica e dichiarare illegali filo curdi del Partito Democratico e dei popoli, che si presenta senza un candidato, ma ha chiesto ai propri elettori di far confluire i voti su Kirish Daroglu. Intanto ieri il nuovo tonfo della Borsa di Istanbul, la lira turca è ai minimi storici. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha fatto sapere che è pronto a lavorare con chiunque vinca le elezioni in Turchia. È terminato a Londra con l'incontro con Rishi Sunak il tour europeo di Volodymyr Zelensky, partito da Roma, passato poi per Berlino e Parigi. È stato lo stesso presidente a fare il bilancio di questi giorni, più sistemi d'arma per la controffensiva, per la difesa del paese dai bombardamenti che oggi hanno ucciso quattro persone colpendo un ospedale ad Advitka, un addestramento dei piloti ucraini per i getti da combattimento. Mazzalewski ha anche spinto su argomenti politici l'avvicinamento all'Europa e alla Nato, il sostegno al suo piano di pace che non prevede per un alcun cessato il fuoco. L'esercito di Kiev avanza ancora nella zona di Bakhmut, si prepara ad andare a riprendere territori occupati a est e a sud, fortificati dai russi con diverse linee di trincee e dove sarebbero stati lasciati di proposito per contrastare gli ucraini 150.000 uomini. Attacchi che però aumentano anche nelle zone occupate come l'UASC dove in un attentato è rimasto ferito un politico del governo filorusso, lo vediamo in questa foto, Igor Kornak. Adesso il maltempo che dopo aver colpito la Sicilia sta risalendo, è allerta rossa a a Bologna e in quasi tutta la Romagna. È stato chiesto ai cittadini di non uscire di casa se non per questioni necessarie, scuole chiuse. Una giornata d'allerta rossa tra allagamenti e disagi con il maltempo che prima ha colpito la Sicilia e poi con il passare delle ore ha risalito la penisola per puntare decisamente verso le regioni del centro nord. I nuovi fragi hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti pericolosissimi per gli automobilisti salvati in più occasioni dall'intervento dei vigili del fuoco. In Sicilia occidentale, provincia di Palermo in particolare, la situazione più complessa con problemi alla circolazione ferroviaria e treni cancellati. Molto difficili per le condizioni del mare anche i collegamenti con le isole minori. Non si registrano per fortuna danni ingenti o feriti, ma le preoccupazioni adesso si spostano verso la pianura padana. Dopo l'alluvione di dieci giorni fa si teme una replica e per l'Emilia Romagna la protezione civile ha diramato un bollettino con allerta rossa. Previste piene che potrebbero raggiungere massimi storici con possibili conseguenti inondazioni. In particolare si teme l'esondazione del Reno e dei suoi affluenti. Per evitare il peggio sono sotto stretta osservazione i ponti. I sindaci hanno ordinato scuole chiusi a Bologna, Forlì, Cesena, Faenza, Ravenna, dove saranno chiusi anche gli impianti sportivi e i mercati. Alla popolazione è stato chiesto di evitare gli spostamenti e lavorare se possibile a distanza. Già le colonne mobili della protezione civile sono pronte per essere immediatamente attive per un'emergenza che dovrebbe durare le prossime 30 ore con le prime 6-12 ore, quelle scattate dalla mezzanotte, consideratele più critiche. Parliamo ora di calcio. Domani c'è la partita che tutti attendono, quella che porterà una squadra italiana alla finale di Champions League. L'incontro tra Inter e Milan è la partita di ritorno all'andata a vento l'Inter 2-0. Saranno per forza di cose diverse le strade che Inter e Milan dovranno percorrere a soli 90 minuti, più eventuali supplementari e calci di rigore, da una storica quanto in attesa finale. Sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi stessi, per la nostra società, per i nostri tifosi, quindi la dovremmo interpretare nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo un vantaggio, un meritato vantaggio. A Ennerazzurri sarà sufficiente proteggere il preziosissimo 2-0 dell'andata, che potrebbe anche suggerire a Simoninzaghi una tattica attendista per poi approfittare degli inevitabili spazi che il Milan dovrà concedere, nel disperato tentativo di riequilibrare le sorti. Il tecnico, pur alle prese con un gruppo che gode di ottima salute, riconfermerà lo stesso 11 dell'andata, con la coppia d'attacco Lautaro-Gecco, nonostante il gran momento di forma di Romelu Lukaku, due gol sabato a Sassuolo, pronto a subentrare in corso d'opera. In casa Milan, l'imperativo assoluto di tentare la clamorosa rimonta facilita paradossalmente l'approccio mentale alla sfida, da parte di chi non ha più nulla da perdere. Penso ancora che possa arrivare in finale, quindi la preparazione sarà la migliore possibile. Io so che possiamo giocare una grande partita, perché so quanto sono bravi i miei giocatori. In più Stefano Pioli tornerà a disporre del suo gioiello Rafa Leão, che ha sostenuto la rifinitura assieme al gruppo e partirà dunque da titolare in una squadra che rispetto a quella d'andata, potrebbe avere quale centrale di difesa il tedesco Ciao al posto di Simon Kier. È l'1.33, ci fermiamo. L'informazione torna domani mattina alle 7. Arrivederci, grazie, buonanotte.